Appena possibile, qual è il problema? Ci deve essere un errore. Non abbiamo problemi? Adesso sì. Sono San Miguel e ho il controllo completo dell'impianto nucleare. Ho una lista di richieste. Gli Stati Uniti non hanno mai negoziato con i terroristi, signor Samson. Queste sono richieste non desideri. Abbiamo costruito una bomba. Non è molto grande, ma è molto efficace. E credetemi, è stata posizionata bene. Sa, quest'impianto ha materiale atomico a sufficienza da provocare un'altra cernica. La maledetta bomba atomica, santo cielo!